Ciao ragazzi, bentrovati. In questo rapido video di ripasso voglio mostrarvi ancora una volta come si svolgono, o meglio come si risolvono le divisioni in riga, con e senza resto. Non si tratta di un argomento nuovo, è un argomento che abbiamo già visto negli anni passati. Quest'anno purtroppo a causa della chiusura anticipata delle scuole non abbiamo potuto affrontare tutti gli argomenti di cui vi avrei voluto parlare per quanto riguarda matematica e le divisioni sono proprio uno di quegli argomenti che purtroppo non ho potuto affrontare. Per cui, visto che sul vostro libro delle vacanze comunque si trovano alcuni esercizi dedicati alle divisioni, ho pensato che potesse esservi utile comunque un ripasso, anche ovviamente se si tratta di argomenti già visti. Allora, partiamo con le divisioni in riga. Allora, partiamo innanzitutto con una divisione molto semplice, 12 diviso 2 uguale numero misterioso. Quindi, al posto dei puntini ovviamente dovremmo andare a scrivere il risultato. Allora, come facciamo a risolvere una divisione in riga? Andando a lavorare al contrario, procedendo al contrario, cosa significa? Allora, innanzitutto il diviso si trasformerà in un per. Quindi, anziché svolgere una divisione, noi andremo a svolgere una moltiplicazione che è un po', se ci pensate, l'operazione contraria, diciamo così, opposta rispetto alla divisione. Dal momento che andremo a procedere al contrario, cosa succederà? Succederà che l'ultimo numero, quindi il nostro numero misterioso, che qui indico soltanto con i puntini, diventerà il primo. Il 2 resterà al suo posto, ma il primo numero, cioè 12, diventerà l'ultimo numero, diventerà il risultato della nostra moltiplicazione. A questo punto, vedete che diventa tutto molto più semplice, perché? A questo punto dobbiamo trovare quel numero che moltiplicato per 2 ci dà 12. Allora, cosa facciamo? A questo punto basta ricordarsi la tabellina del 2, perché? Perché se ci pensate bene, in realtà, quando noi abbiamo una moltiplicazione, possiamo anche applicare la proprietà commutativa. Quindi, dire che il numero misterioso moltiplicato per 2 dà 12 come risultato, equivale a dire che 2 per il numero misterioso equivale a 12. Quindi, a questo punto, cosa facciamo? A questo punto andiamo a prendere la tabellina del 2 e la ripetiamo tutta finché non troviamo appunto quale numero moltiplicato per 2 oppure per quale numero il 2 ci dà 12 come risultato. Quindi, 2 per 0, 0, 2 per 1, 2, 2 per 2, 4, 2 per 3, 6, 2 per 4, 8, 2 per 5, 10, quindi, 2 per 6, 2 per 6, 12, quindi 2 per 6 fa 12 come, vedete, 6 per 2 fa 12. Quindi, a questo punto, vedete che 12 diviso 2 fa 6. Perché? Perché 6 è il numero che moltiplicato per 2 mi dà come risultato 12. Infatti, 6 per 2 fa 12, ma al contrario anche 2 per 6 fa 12. Bene, procediamo con qualche altra divisione. Allora, scriviamo 14 diviso 7 uguale. Allora, se volete potete inserire i puntini. Allora, come procediamo? Abbiamo detto che dobbiamo in realtà procedere al contrario. Quindi, qual è quel numero che non diviso ma moltiplicato per 7 mi dà 14? Mi basta semplicemente ripetere alla tabellina del 7 finché non arrivo a 14. 7 per 0 fa 0, 7 per 1 fa 7, 7 per 2 fa 14. Infatti, vedete, 2 per 7, 7 per 2 fa 14. Quindi, 14 diviso 7 fa 2. Procediamo con un'altra divisione. 15 diviso 5, uguale. Anche qui, procediamo sempre al contrario. Dobbiamo trovare il numero che moltiplicato per 5 ci dà 15. Tabellina del 5 finché non troviamo questo numero misterioso. 5 per 0 fa 0, 5 per 1 fa 5, 5 per 2 fa 10, 5 per 3 fa 15. Eccolo qua. 3 per 5 o 5 per 3 fa 15, per cui 15 diviso 5 fa 3. Ancora un altro esempio. 20 diviso 4, uguale numero misterioso. Allora, come al solito procediamo al contrario. L'ultimo numero, il numero misterioso, moltiplicato per 4 ci dà 20 come risultato. Quindi, tabellina del 4 finché non troviamo il numero misterioso che, appunto, moltiplicato per 4 ci dà 20. 4 per 0, 0, 4 per 1, 4, 4 per 2, 8, 4 per 3, 12, 4 per 4, 16, 4 per 5, 20. Vedete? 4 per 5, 5 per 4 fa 20. Quindi 20 diviso 4 fa 5. Quindi la divisione, in pratica, rappresenta, diciamo, l'operazione contraria, opposta, rispetto alla moltiplicazione. Perché la moltiplicazione ripete e invece la divisione fa dei gruppi uguali. Ancora un'operazione. 12 diviso 2, uguale. Inseriamo sempre qualche puntino. Allora, abbiamo detto che dobbiamo moltiplicare questo numero misterioso per 2 e quindi dobbiamo trovare il numero che moltiplicato per 2 ci dà 12. Come lo troviamo? Ripetendo la tabellina del 2. 2 per 0, 0. 2 per 1, 2. 2 per 2, 4. 2 per 3, 6. 2 per 4, 8. 2 per 5, 10. 2 per 6, 12. Infatti, 6 per 2 fa 12. Infatti, ricordatevi che quando dividiamo per 2, in realtà, noi andiamo a trovare la metà. Infatti, 12 diviso 2 significa dividi a metà 12. E la metà di 12 è proprio 6. Adesso, attenzione, osservate bene questa divisione. 13 diviso 2. E già qualcuno di voi probabilmente dirà E no, maestra, ma hai appena spiegato che dividere per 2 vuol dire dividere a metà, ma il 13 è un numero disponibile, non si può dividere perfettamente a metà. Esatto. Non significa che la nostra divisione non possa essere svolta. Semplicemente non sarà una divisione esatta, quindi con il resto 0, sarà una divisione con il resto. Allora, procediamo sempre nello stesso modo e andiamo a trovare il numero che moltiplicato per 2 ci dà 13. Quindi, semplicemente, dobbiamo ripetere la tabellina del 2 finché non arriviamo al 13. Se per caso il 13 non compare, ci dobbiamo fermare al risultato precedente. Quindi, 2 per 0, 0, 2 per 1, 2, 2 per 2, 4, 2 per 3, 6, 2 per 4, 8, 2 per 5, 10, 2 per 6, 12, 2 per 7, 14, ma 14 supera il 13. Allora, ci fermiamo a 2 per 6. Controlliamo un po'. È vero che 6 per 2 fa 13? No. 6 per 2 fa 12. E da 12 quanto manca per arrivare a 13? Manca 1. Quindi, quell'1 che manca è il resto. Quindi, 6 per 2 non fa 13, fa 12. Più 1 di resto, 12 più 1 di resto, fa proprio 13. Proviamo a risolvere un'altra divisione con il resto. 10 diviso 4, uguale. Allora, 10 diviso 4. Anche qui andiamo a prendere l'ultimo numero. Questo numero moltiplicato per 4 ci deve dare 10. Quindi, ripetiamo la tabellina del 4 finché non arriviamo a 10 oppure non lo superiamo. Allora, 4 per 1 fa... Scusate, 4 per 0 fa 0, 4 per 1 4, 4 per 2 8, 4 per 3 12, ma 12 è maggiore di 10. Allora, ci fermiamo a 4 per 2. 2 per 4 non fa 10, 2 per 4 fa 8. Per arrivare a 10, quanto manca? Potete fare, se volete, 10 meno 8, oppure potete anche farlo a mente, se volete, potete anche farlo con le dita, come preferite voi. In ogni caso, ripetiamo, 2 per 4 fa 8, da 8 per arrivare a 10, mancano 2, quindi abbiamo resto 2. Infatti, se fate 2 per 4, non ottenete 10, 2 per 4 fa 8, più 2 di resto, 8 più 2 fa 10. Esercitiamoci ancora un paio di volte. 16 diviso 5, uguale. Allora, anche qui, ancora una volta, partiamo dal fondo, partiamo dall'ultimo numero, questo numero moltiplicato per 5 mi deve dare 16. In realtà, dovreste già aver capito che 16 non può essere diviso perfettamente per 5, perché tutti i multipli di 5, cioè tutti i numeri che sono divisibili per 5, finiscono sempre con lo 0, con il 5, qui invece abbiamo 16 che finisce con il 6. Quindi il 16 non sarà nella tabellina del 5, quindi probabilmente avremo del resto. Allora, qual è quel numero che è moltiplicato per 5 da 16? Ripetiamo la tabellina del 5, finché arriviamo a 16, oppure fermiamoci all'ultimo risultato, appunto, che non supera 16. 5 per 0, 0, 5 per 1, 5, 5 per 2, 10, 5 per 3, 15, 5 per 4, 20, 20 supera 16. Allora ci fermiamo a 5 per 3, ma 3 per 5, 5 per 3, fa 15, non 16. Quindi, 3 per 5, 5 per 3, fa 15, da 15 per arrivare a 16, ne manca 1, quindi abbiamo resto 1. Infatti, 3 per 5 per 5, 5 per 3 fa 15, più 1 di resto fa 16. E infine, un'ultima divisione, 11 diviso 3, uguale. anche qui, partiamo ovviamente dall'ultimo numero. Quindi, qual è quel numero che moltiplicato per 3 mi dà 11? Tabellina del 3. 3 per 0, 0, 3 per 1, 3, 3 per 2, 6, 3 per 3, 9, 3 per 4, 12, ma 12 supera 11. Allora ci fermiamo a 3 per 3, ma 3 per 3 non fa 11, 3 per 3 fa 9. Da 9 per arrivare a 11 mancano 2, quindi abbiamo resto 2. Infatti, 3 per 3 non fa 11, fa 9, ma 9 più 2 di resto fa 11. Bene, nel prossimo video ripasseremo come calcolare le divisioni in colonna con e senza resto con una sola cifra al divisore. Ciao!